Io credo che gli uomini delle istituzioni debbano sempre invitare ad andare a votare. Evidentemente questa dichiarazione dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dimostra che ci avevamo visto bene quando abbiamo chiesto l'impeachment. Non è una persona all'altezza di gestire un ruolo istituzionale, perché invitare e dire che non bisogna andare a votare credo che sia veramente scandaloso. In un paese in cui già stiamo avendo enormi problemi con l'astenzione al voto, c'è un ex Presidente della Repubblica, un Presidente della Repubblica in merito, che invita a non andare a votare. Io andrò a votare domenica e voterò sì. Non vi appassionate al fantacalcio, davide Casaleggio, Di Maio, le incoronazioni. Quante volte avete detto in questi tre anni che io dovevo essere incoronato e post incoronazione non c'è mai stata? Ma avete solo rovinato tutte le Italia 5 Stelle da quando sono in Parlamento. Io credo che dobbiamo, come sempre, guardare ai problemi dei cittadini, perché questo movimento è in grado di andare avanti. Certo, Roberto Casaleggio era una risorsa importantissima e ce lo portiamo nel cuore tutti, e ci portiamo anche i suoi insegnamenti e quello che è stato capace di creare insieme a Beppe Grillo. Ma il miglior modo, lo ripeto, per onorare la sua memoria, è andare avanti, vincere le prossime elezioni amministrative in più città possibili, a cominciare da Roma, e poi indebolirli a tal punto da andare al governo di questo Paese, provare alle prossime elezioni politiche, che credo saranno l'anno prossimo, a governare questo Paese con umiltà, che significa mettere insieme le risorse migliori e non degli yes men all'interno dei ministeri.